A tre settimane dall'inizio delle votazioni per il nuovo presidente della Repubblica, le forze politiche partono molto distanti. Dentro Forza Italia non sono granché convinti della compattezza del centrodestra sul nome del Cavaliere e in particolare dentro Lega FD. Il leader pidi pronto a lanciare il nome di Draghi ma insieme vuole un accordo per fine legislatura. I Cinque Stelle vogliono un pressing sul capo dello Stato uscente. Matteo Salvini vuole vestirsi da crupie già da un mesetto, ripete da settimani che vuole mettere tutti i leader di partito intorno al tavolo per parlare di Quirinale, vuole fare presto perché le emergenze sono altre, dando per implicito che eleggere il nuovo capo dello Stato non lo è. Ad ogni modo se il suo doveva essere l'inizio della discussione per il momento sta andando malino, il Partito Democratico fa sapere che finché su quel tavolo c'è il nome di Silvio Berlusconi, non c'è trattativa che tenga. Perfino Irene Tinagli, eurodeputata e vice segretaria del PD, che fa parte dell'area più moderata del partito, dice che l'ex presidente del Consiglio è una figura non adeguata. E il leader Enrico Letta chiarirà la linea nella direzione nazionale del 13 gennaio, l'obiettivo è un'elezione ad ampia maggioranza che permetta di mantenere l'unità della maggioranza e quindi evitare le elezioni anticipate, vero pallino dell'alleato M5S. Ma il discorso del 13 gennaio essere anche l'occasione per Letta di esplicitare un'apertura ufficiale all'attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, carta possibile da giocare solo con un patto di ferro sulla tenuta della legislatura. I 5 stelle in questo quadro sembrano su frequenze diverse da quelle del centrodestra e del resto del centrosinistra. Se, infatti, nei giorni scorsi il leader Giuseppe Conte, un po' per far fuori dall'agenda il nome di Berlusconi, aveva puntato una prima fiche su una donna, non esplicitando tuttavia con quale identikit, neanche di massima. Oggi l'Assemblea dei senatori ha votato quasi all'unanimità che è necessario fare pressing sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella per farlo arrestare al Quirinale. Evenienza che il capo dello Stato ha già escluso innumerevoli volte, l'ultima durante il discorso di fine anno nel quale ha pure sottolineato che così prevede la Costituzione. Questo non significa che ci sia un veto su Draghi o qualsiasi altro candidato di profilo alto, come spesso ripetono nel Movimento.